Un parrucchiere Non è vero, ci sto mostrando Sei un parrucchiere Però che io non so tagliare i capelli Massimo ti faccio una pelata Ti prego, fammi i peli nel culo Siccome sono in vacanza Il video di oggi dipenderà da te Oggi visiteremo il museo di Reggio Emilia Sempre se si può registrare all'interno Se no non vedrete niente Wow, il museo di Reggio Ci andavamo con le cazze del Temer Ma Brenda, a te che ti piace fare i puzzle? Perché non ricomponi? Questo Io l'ho visto uguale su Wish sta roba Costava 10 centesimi Questo è il mio mondo Adesso prendono vita le statue Ho più corna e io pensavo Te guarda che occhi Ciao, sono Bear Grylls Questi fiumi sono fiumi Queste rocce Sono rocce Oh mio Dio, mi sono spaventato Ho bisogno della tua guida Raimondo Cos'è questo? Questa è una testa mozzata Questi sono gli animali dell'anzichità Lui è il mio fratello Ma che cazzo Che cazzo è questa roba? Non può esserlo lui Dove si va qui? Di cosa hai paura? Di cosa abbiamo paura? Anche i prosciotti No, i prosciotti La scala è infinita Ma è infinita questa cosa Ma qui c'è un'opera d'arte moderna Raimondo Cavoli, è proprio bello questo museo Però è ora di mangiare È ora di pranzo Mi sento in India A comprare questi vestiti Mi ricordo come si chiama Ti vergognieresti Parlare davanti a una telecamera In mezzo alle persone che ti guardano? No Brenda, raccontaci le tue esperienze Sulle scorreggie Io le faccio spesso Questo doveva essere un video serio Parlare di squadre Questo Mi stai dando dell'obeso Ti sto dando dell'obeso Sto dicendo se lo dobbiamo camminare Se ti ammazzi col cibo Come cazzo facciamo poi? Non l'ho mai mangiato Mi stai dando dell'obeso Ti porto in tribunale Povero gabbiano Hai perduto la compagna Andremo di mangiare bene Speriamo bene Ragazzi Approvata Vediamo quest'altro Chi vuole fuori Omar li hanno piegati in testa un piccione Con una bella mellaccia di piccione Di vergogni Molto bello sto locale Metterò 5 stelle Consigliato Veniteci No Dite che vi mando io Vi fanno 5 euro di sconto Raimondo Gatto Silvestro Fai lo youtuber Fammi vedere come si fa Prima di tutto Devi disfrutare E poi E' femmossa Prodami un baccerista Eh ma tu fai vocali Ma è banale Secondo me Regge mille Dicevi che è uno dei parchi C'ha i parchi più belli d'Italia Non i parchi più belli C'ha i parchi con più natura Poche parole Ci sono più alberi che persone Esatto Bello 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 Sorridi Sorridi la telecamera Poste brutte Dico Sono anche belle Ragazzi ci vediamo su Allifans alle ore 10 No ma in generale Questo è questo Sei regina Cinima di fanciulla Di cinema veri Di cinema veri C'è posta per te Che posta è arrivata Spero non ha la bolletta La multa No Ragazzi questa giornata finisce qui Io spero che questo video vi sia piaciuto Adesso dovremo vedere altri spezzoni di video Ve lo dico io Lasciate like Commentate Non è vero Commentate con cammello australiano imbalsamato E ciao Ciao